Quello governo e vergogna lo metteremo se è il caso dopo, per favore, e allora quel governo e vergogna per favore si tolga, e allora scusate, 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 e allora scusate, le verità li vedremo nel tempo poi, e allora io ribadisco ancora una volta se c'è il rispetto nei miei confronti, io ho garantito che questo momento di visita deve essere un momento costruttivo e non di strumentalizzazione politica. Oggi non accettiamo strumentalizzazione politica da nessuno, pertanto il cartello di vergogna meno, cosa dicono le belle donne, non è il momento di fare politica, e allora rivogliamo, rivogliamo.